Ciao ragazzi, io sono Cero Fisis e oggi cominciamo finalmente Goat Simulator. Allora, prima di cominciare voglio dire che non ho giocato molto a questo gioco, ho giusto giocato un attimo per imparare i comandi e basta ragazzi. Quindi non so assolutamente nulla, tranne quello che vi siete nei video di Favij. Quindi adesso cominciamo, vero? Ecco, sì, ogni tanto fa così. Eh, appunto, è ragione. E basta però. Esatto, potrebbe laggare un pochino, sì, non so per quale motivo, però lagga. Ok. Attacco veloce, babam! Mamma mia, è stato devastante. Sì, questo è già di più. Oh, oh, oh! Mi ha messo in un bambino! Cosa stai facendo? Cominciamo con i primi bug, ragazzi. Una capa si è attaccata a me. Oh, staccati! Staccati! Adesso l'ho presa io. Adesso ti faccio vedere io che comando! Uuuh, soffri capra! Mamma mia! Ok, andiamo! Contro la morte! Boom! Ah! Sto benissimo! E l'altro capra? Oddio! Eccola qua! Sei bene? Respira, eh! Respira! Ok, bisogna salvarla in qualche modo. Ah! Ci penso io, allora. Caspita, è volata! Ah, eccola! Per salvare una capra bisogna... Ehm... Leccarla. E poi... Fare così. Ora sta molto meglio, di sicuro. Ecco appunto, sta così bene che è evaporata dalla felicità. E caspita, è finita! Oh, è sparita! Dove è volata? Puff! E sparì la capra. Ok. Allora. Vediamo un po'. Stupido albero! Senti patico. Ah, stavamo cercando quella capra, sparita. Potrebbe essere finita da sopra. Non so come caspita avrebbe fatto, però potrebbe anche essere... Oh, ma si riesce a salire se scalpa? No. Ok, ok, ci siamo. Poi di lì! Oddio! Ah! Ecco. Ora va in tilt il gioco. Mi sono rotto. Cercare quella stoltissima capra. Nanna, 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 nanna! Scusi! Scusi! Ok. Si può interagliare alla finestra? Tipo, fusturda! No. Oh, caspiterina! E' un po' buggato sto gioco. Oh, oh! Ma stai attento! Ok, sta tizia qui è morta. Ora di più. No, era ancora via. Ha fatto... Vabbè. Qua... Oddio. Oddio ci sono di tizi. E basta con sto lag. No, l'ho evitato. Adesso non mi alzo. Ok. Ok. Bisogna andare furtivamente. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta! Non serve a funzionare. Ok. Ta-ta-ta-ta! Ok. Pa! Tutti morti! Ok. Allora. Levati. Mamma mia, quella tizia si è ammazzata da sola. Boom! 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 Mamma mia, lo sto distruggendo! Dove... Caspita! Mamma mia, che... Caos! Tizzi che corrono e che dicono... Ma cosa stanno facendo? Ah, ma sono sopravvissuti! Pfff! Oddio! Non ho parole! Per il no senso di questo gioco! Oddio! È stato troppo epico! È andato a sbattere contro! Ma si stanno ammazzando da soli! Fra di loro, ragazzi! Non ha senso! Oh! Appunto! Ok, mi devo riprendere! Ma cosa fanno? Stanno piangendo davanti a un muro! Perché? Perché? Dimmelo perché! Oddio! È uno zombie! Scappiamo! Oh, ciò dice che... Cosa sta... È tornato lì! Ma boom! Ok, come è caspita fatta non lo so! Ok! Tu! Vieni con me! Ehi, tu! Vieni con me! Non tu! Scusa! Tu! Ok! No! Sto tizio qui! Ok, non riesco a prendere! Ok, prendiamo quest'altro allora! No, adesso ho sbagliato! Oh, wow, wow! Che succede? Oh, che cosa stia succedendo? Sono ferma qui! Ma riesci a prendere questo tizio? Ah! Ok! Sì! Vieni con me ora! Vieni qui! Ok, no! Ok! Non è sopravvisto! Non... Sono tutti morti, insomma! Nya! Ok, questo... Anche questa casa è distruttibile! Uffa! Stupida macchina! Mamma mia! Ok! Ci sono! C'è un tizio lì che continuano a dare il mantenimento da tre ore! Ai! Guardare dove si va? No, eh! Macchina! E corri, su! Ok, aspetta il supermercato! Sai che tu mi sei antipatico? Mi stai antipatico! Oh, ma non l'ho colpito! Sì, l'ho colpito! Mamma mia, guardate come si dimena! Pah! Vola! 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 Ok, se mi sono spezzicata quanto è la parete! Ok, andiamo! Scusi! Ho fatto effetto domino! Ok, di qua che c'è? Niente, finisce! Ok, andiamo di qua allora! No, 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 no! Un elicottero! No, è un delto clone! Sappiamo la stessa cosa, non è vero! No, 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 no! Ma perché l'ho fatto? Vabbè, tanto sono vivo! Ma cosa stai facendo? Morto! L'ho stecchito con una linguata! Ok! Non lagare! Ok! Perché aspettate, ancora laggiù! Vieni! Mamma mia, che lag! Oddio! Ok! Vieni! Mamma mia, che lunga lingua ha! Segui! Ma ti muovi? Non si può perdere! Ci penso io! Ok! No, sono morto di nuovo! Ok! E il tizio? Oddio! È venuto anche lui! Mi ha seguito! Ma la smetti di fare così? Ok! Uh, ok! È il momento di morire! Ok! L'ho mancato in una maniera pazzesca! Uuuh! Come non dite! Ok! Ma cosa state facendo? Gna! Dove scappi tu? Ma che stupido! Si uccidono tutti da solo qui! Cosa stai facendo? Oh, levati! Ho spaccato qualcosa! Ok! Qua ci sono delle piantine! Ok! Ho spaccato il vetro! Ah! Ecco! Qui mi sa adesso che si può entrare! Ma sono dei barili! Lo sai? Erano dei barili! Ah! Ok! Arrivo io! E' entrato nella parete! Ok! Tutto bene? Va bene! E' entrato nella parete! Dove è finita la tizia? E' aperto la testa! Ma che senso ha? Perché? Stai tirando calci? Ah! Questo io non lo sapevo! E' perso che tiro il calci qualcosa che non ti distrugge! Perché se ti ti ha perso una testa del braccio? Una testa! Perché noi ne abbiamo sette! La testa del braccio! Ok! Andiamo di qua! Sono un divano! Perché sono iniziata un divano? Vabbè! Oh! C'è pure un piano di sopra! Non ci sarebbe di sopra! Oh! Non c'è niente qua! Ah! Un tizio! Che sta lì così e gli spegne un braccio! Ah no! Ecco! Vuola! Fuori dalla finestra! Cattivo! 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 Vola via! Ok! Non funziona! Vabbè! Andiamo di qua! Ah! Stupi la lampada! Stupi! Gna gna! Sta succedendo qualcosa qui! C'è solo un modo per salvarsi! Ah! Ok! Non ho capito bene perché! No! No! Mamma mia! Non ci capisco più niente ragazzi! Mmm! Ok! Vediamo un po'! Dove possiamo andare ancora? Ci siamo già andati! C'è quel coso che tritura tutto! Lì ci sono le macchine! E qua c'è un albero! Ah! Lì c'è il coso dello spazio! Sì! Ma io non ci vado adesso! O di qua c'è qualcosa! Un gabinetto! Poi non è pure un gabinetto! Ci hai metto una stanza! C'ho pensato è stata pazzesca ma non c'è di sotto! Ah! Ok! Ecco! Va bene! Ok ragazzi! Quindi questa è la God Simulator! E noi ci vediamo al prossimo episodio! E ricordatevi! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!